Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e risulta quindi di particolare importanza fare un controllo della capacità visiva, soprattutto in funzione dell'epoca in cui viviamo dove pc, tablet e cellulari sono i protagonisti. Poniamo poi una speciale attenzione ai nostri bambini, ai quali è sconsigliato un uso prolungato di tali dispositivi e soprattutto prima di andare a letto. Del resto, anche per quelli non bambini, i rischi principali sono di secchezza e di invecchiamento precoce delle strutture interne, quindi prendersi cura dei propri occhi significa prevenire una comparsa di disturbi visivi. Non vi rimane dunque di rivolgervi ad un professionista della visione.